Cinque secondi! Indica un punto di lancio per la squadra. Evitare il gas e raggiungere la zona sicura. Contratto marcato! Indica un punto di lancio per la squadra. Versagli in campo, al lavoro! Sono state individuate casse forti nemiche contenenti equipaggiamento prezioso. Svuotale! UAV nemico in volo! Mitraglietta marcata. Cassaforte aperta, ne mancano due. UAV nemico in zona. UAV nemico in volo. Cassaforte aperta, ne mancano due. Fucile d'assalto marcato. Ho marcato un bersaglio. Diverse roccaforti identificate. Le loro posizioni sono sulla mappa tattica. Gatti in avvicinamento. Gatti in avvicinamento. Gatti in avvicinamento. Gatti in avvicinamento. Mi hanno beccato. Molota, fin dietro! Molota! Molota! Il tuo team è nella zona sicura. Il tuo compagno è nel Gulag. Chi sopravvive si guadagna un rientro. Guarda dove spari! Gatti in avvicinamento. Metto una mina! Gatti! Gatti! Faccio il graosio! Parco! Passo! A oro into la minuta. Altri! A oro imbarzare per il suo degli valutare. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mi sparan guarda dove spari grazie a tutti gas in arrivo c'è una nuova zona sicura attenzione il gas sta convergendo prepararsi al contatto attenzione il gas in arrivo il gas è sempre più vicino il gas sta convergendo punti al contatto attenzione il gas è sempre più vicino 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 becchino eliminato Ho marcato un bersaglio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Vado qui. Ho marcato un bersaglio. UAV nemico attivo. Hanno saccheggiato questo settore. Vado qui. Movimenti. Piazza una mina. Piazza una mina. Piazza una mina. Piazza una mina. Vaffanculo, idiota! Devi tornare a combattere! sto bene qualcuno a colpi di medio calibro bersaglio marcato confermato attacco imminente zero colpi a segno zero grazie affrettati verso la zona sicura contatto gas in avvicinamento raggiungere la nuova zona sicura movimenti ne restano solo 25 guarda dove spari perdete terreno raggiungere la zona sicura resisti benigno ucciso smettila di frignare sopravvivrai sto bene camion nemico distrutto mi hanno beccato non temerlo io saldo sempre sopravvivrai puro vita grazie cecchino eliminato sei tra i primi dieci bene affrettati verso la zona sicura vorrei morire qui attacco richiesto non ti lascerò morire così arriva l'attacco con mortaio tutto bene sto bene mina esca piazzata siate in cinque nuova zona sicura impatto fuori bersaglio gas in arrivo raggiungere la zona sicura mi sparano vado qui lavoro finito squadra di michelin sono l'occhio a come spari fight quindi usc la . Grazie a tutti. Grazie a tutti.